Cari amici, buona domenica. Ieri abbiamo dato compimento al mistero del Natale del Signore. Perché negli otto giorni che ci fanno rivivere l'evento del suo Natale abbiamo celebrato Maria, Madre di Dio. In questa seconda domenica, dopo il Natale del Signore, il Vangelo che ci viene proposto ancora una volta è il grande prologo di Giovanni. Questo grande inno che canta, che manifesta, che dichiara la grandezza del verbo fatto carne. E allora vogliamo, come dire, cogliere almeno tre coordinate principali che ci fanno sentire la bellezza, la grandezza di questo prologo. Innanzitutto l'Evangelista Giovanni comincia col dirci che Gesù è colui che esiste da sempre presso il Padre. Lui è il verbo del Padre, lui è rivolto al Padre, lui è Dio come il Padre. E soprattutto ci viene detto che lui era in principio. Questo in principio non è un'annotazione di tipo temporale, è un'annotazione di tipo fondamentale. Gesù sta all'inizio di tutto, con il Padre, perché è generato da lui, dal Padre, da tutta l'eternità. E subito Giovanni scrive, tutto è stato fatto per mezzo di lui e senza di lui niente, è stato fatto di tutto quello che esiste. Dopo avere trattato il mistero della preesistenza di Gesù, ci viene descritto come Gesù entra nella storia. Entra nella storia preparato dalla missione di Giovanni, da cui molti non si sono distaccati, perché molti hanno confuso Giovanni Battista come il vero Messia. Non abbiamo tempo di soffermarci su questa indicazione per approfondirla. Certo è che Gesù è preparato dalla testimonianza di Giovanni, però quando viene nel mondo, in questo mondo che è stato fatto per mezzo di lui, il mondo non lo riconosce. Non solo il mondo non lo riconosce, ma neanche i suoi lo riconoscono. Ecco, la presenza di Gesù nella storia è una presenza drammatica, fatta di tensioni, fatta di chi rifiuta conversione, fatta di chi si chiude nelle proprie sicurezze, fatta di chi non riconosce la sua presenza amica, vera, vicina. Però il Vangelo ci dice anche che ci sono coloro che lo hanno accolto. E lo hanno accolto perché sono da Dio generati. Gesù non lo si riconosce in vista di una funzionalità, di un calcolo umano, di un successo, di una riuscita. Gesù lo si riconosce perché c'è la sintonia con Dio, perché lui ci rivela il volto del Padre. Ed ecco allora che il prologo di Giovanni si concentra, diciamo così, trova la sua espressione decisiva nel dirci il mistero del Natale. Il verbo si fece carne, il verbo venne ad abitare in mezzo a noi e noi abbiamo contemplato la sua gloria. La vita di Gesù è proprio questo manifestare la gloria del Padre e quando noi la riconosciamo come tale vuol dire che siamo anche noi figli del Padre come Gesù. Buon cammino ancora, auguri di buon anno. Grazie a tutti. Grazie a tutti.